Buonasera a tutti quanti, questa sera ci sono... andiamo subito... Allora è mezzanotte in punto, sono 10 gradi, 10 gradi, oggi è mercoledì, 12 aprile 2023. Dai non fa tanto freddo oggi, oggi si sta bene. La macchina è 16 gradi, 5, vedremo, vedremo. Vi auguro una buonanotte a tutti quanti e ci sentiamo mani. Macci, pacci, pacci, ciao ciao.